Quando sono solo e sogno all'orizzonte Se mancano le parole, se lo so che non c'è luce In una stanza quando manca il sole Se non ci sei tu come me Su le finestre mostra tutto il mio cuore Che hai acceso, chiude dentro me La luce che hai incontrato per strada Con te partirò Paesi che non ho mai veduto e vissuto con te Adesso si li vivrò con te Partirò Su navi per mari Che io lo so No, 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 non esistono più Con te io li vivrò Ambasador for peace Grazie a tutti Grazie a tutti Per giustamente una causa Per fare una nuova cultura di pace nel mondo Cioè dire il rispetto di tutto essere l'evento sulla terra So, mister Fortunato Sì 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Vice Presidente of Universal Peace Federation in Europe In Europe In Europe e che cosa pensi di oggi? Penso che è stata una conferenza molto significativa soprattutto perché potremmo il rilevo della famiglia nel rilassamento del rilevamento. È sempre più negliato, ma non rilassiamo la quale è importante che si tratta di iniziare in molti aspetti di buon ordine, del benessere, la stagione del carattere, la stagione della società. La famiglia ha un'importante role. Penso che l'UPF è un buon soggetto, perché il vostro obiettivo è la famiglia. Uno dei nostri obiettivi. Questo è molto importante. Il nostro obiettivo è il nostro obiettivo di un'unica per l'unica per l'unica per l'unica. Questo significa che viviamo l'unica educazione e la stagione per l'unica per l'unica. Credo che sia la stagione, ma la differenza. Sì, ma un'altra stagione. Ma è un lavoro molto valutato. Con i bambini è un lavoro molto valutato. Grazie mille. Un altro thing per le persone. Quali messaggio vuoi lasciare? Penso che l'UPF è un'unica per l'unica per l'unica per l'unica. E noi dovremmo fare un'unica per l'unica 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 per l'unica. E così, possiamo veramente portare un mondo in pace. Grazie. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti. 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 Wow... Yeah... 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 Yeah...